Allora oggi un video un po' diverso dal solito, dovete sapere che quando vado a fare la spesa la mia ragazza mi deve sempre fare una lista, altrimenti qualcosina me la dimentico, sempre. Questa volta ho detto vado a fare la spesa e lei mi ha detto ti serve la lista, vuoi la lista? Io ho risposto no, questa volta mi ricordo tutto, qualsiasi cosa, anche la più piccola. E lei mi ha risposto tipo cosa? E lì mi è venuto naturale rispondere in inglese don't put me on the spot, don't put me on the stop pot, chop pot. E vuol dire don't put me on the spot, vuol dire non mettermi all'angolo, non mettermi alle strette, non mettermi in difficoltà, perché in realtà io quella minima cosa me l'ero già dimenticata, ok? Quindi le ho detto dai non mettermi in difficoltà, non chiedermi ste cose. Può voler dire anche non mettermi in imbarazzo, per esempio siete a una festa, il vostro amico continua a presentarvi ad altre persone e dice oh lui è bravissimo, suona il pianoforte, è un fenomeno, guarda c'è un pianoforte, perché non ci suoni qualcosa? E tu gli dici don't put me on the spot like that, cioè non mettermi in imbarazzo così, non mettermi alle strette, non mettermi in difficoltà, non voglio farlo. Grazie. Grazie.